A differenza della prima ordinanza che ci ha colto un po' di sorpresa, l'ordinanza di proroga della zona arancio rinforzato, diciamo che ce l'aspettavamo. Tutta la Regione Lombardia è diventata zona arancio, quindi era un po' nell'area che potessero confermare questa nostra zona con ulteriori limitazioni. Qualche problema sicuramente c'è stato per la chiusura delle scuole, è difficile sicuramente gestire queste situazioni in brevissimo tempo e qualche difficoltà economica da parte di bar e ristoratori è da tenere sicuramente in considerazione. Noi però ci siamo adeguati, abbiamo cercato di collaborare anche a livello sanitario e insieme a ATS e alla nostra fondazione abbiamo fatto partire questo polo vaccinale che sta andando molto bene. Riusciamo a garantire ogni giorno i 168 vaccini, quello che ci è stato indicato e probabilmente la settimana prossima dovremmo iniziare, finiti tutti gli over 80, a vaccinare anche i cittadini dai 79 anni fino ai 60 anni. Grazie a tutti.